Ciao a tutti! Inizio questo video con il migliore aspetto possibile ovviamente. Oggi la challenge prevede sfidare il nostro Michele su una serie di dolci. Quanti dolci posso estrarre che lei poi realizzerà? Abbiamo qui uno dei nostri libri presi da Italy, si chiama Torte semplicissime e andrò semplicemente aprirlo a casa. Pronto? La prima pagina che ho estratto si chiama solo torte con verdure, quindi riproviamo. Dolci al mais e ai mirtilli, questo, torta strusel, cioccolato e arachidi, questa, torta alle arance e nocciole, cake alla banana. Sei pronto a fare le torte semplicissime? Bene, sì. Oggi abbiamo scelto la prima tra le quattro torte. La torta che abbiamo scelto è la torta strusel, cioccolato e arachidi. Per farla ci serve farina, lievito per dolci, cacao in polvere, burro di arachidi, burro freddo, zucchero, uova, cioccolato al latte, fiocchi di segale o di avena. Stiamo finemente dosando gli ingredienti. Bene, non abbiamo ricomprato il cacao in polvere, invece andava ricomprato. Stiamo incorporando il burro di arachidi e il burro. Il composto è più o meno pronto. abbiamo separato una parte del composto, diventerà la parte sopra. Adesso incorporiamo le altre cose nel composto, cioè uova e il cioccolato. La nostra capacità di foderare la teglia ha lasciato molto il desiderare, sarà un epic fail. Duro, di cemento. Vigino a Massari non sarebbe contento, ti direbbe se vuoi fare una costruzione lo può usare come cemento. effettivamente. Bisogna incorporare i cereali nel composto, messo da pasta. adesso non resta che infornarlo. Per quanto tempo e quanto? E ci devi mettere la griglia. 60-70 minuti e 180 minuti. E via. Ok, la torta è più o meno cotta, forse anche troppo cotta e questo è il risultato. direi che apparentemente abbiamo un mezzo fail perché non sembra lievitata. mi sto sbagliando, amoroso. Com'è? Il dolce secondo me, non so se si dice, ma è completamente slegato, nel senso è molto sbriciolone. Ma il sapore è veramente buono. La consistenza secondo me è sbagliata. Ma il sapore è buono. Per me è approvato. Allora, oggi facciamo il secondo dolce che ho tirato a sorte. È il dolce al mais e ai mirtilli. Viene fatto in una teglia da plum cake, credo si chiamino. Queste sono le teglie che abbiamo comprato per fare i dolci. Questa l'avevamo presa da Aldi, è molto carina. e questa invece è una che abbiamo preso su Amazon. Nessuna delle due ha le misure indicate qui. Qua abbiamo gli ingredienti. Quattro uova, mirtilli, questi sono 125 grammi, ne servirebbero 150, zucchero di canna, burro che non basta, infatti il regista è andato a comprarne un altro panetto, lievito, miscela per dolci, spero vada bene, e farina di mais. Vado a pesare tutti gli ingredienti, o sì, intanto ce li abbiamo divisi. Qua abbiamo tutti gli ingredienti dosati. Allora, dobbiamo aggiungere il burro. Devi miscolarlo. Stiamo incorporando le prime due uova. Vado a mettere il lievito. Andiamo a setacciare la farina così. e questo è l'impasto. Adesso lo andiamo a mettere nello stampo che è stato imburrato e poi 40 minuti a 170 gradi in forno. Questa è la torta sfornata. Come potete vedere in questo dolce qualcosa è andato profondamente storto. Praticamente ieri abbiamo tirato fuori il dolce, vi ho fatto tutto il pippone, guardate quanto è bello. Poi sono arrivata dopo un po' a staccarlo dalla teglietta e è risultato essere completamente crudo all'interno. Quindi a quel punto lo abbiamo rinfilato in forno, che non so se è una cosa che si fa, e di lì è stato in forno qualcosa come per sempre. C'è stato sì un paio d'ore. Il risultato finale è questo, che ovviamente è qualcosa che non dovrebbe essere di questa fattura. Nel senso che purtroppo poi non si staccava assolutissimamente dalla teglia, quindi l'abbiamo spappato tutto. Andiamo a assaggiarlo. È buono, sembra un cake la parte dentro. Oggi andiamo a fare con il regista Eliemi Guardamare la terza torta della nostra challenge. e sta durando 60 anni perché ne facciamo una ogni tipo una al mese, diciamo. Comunque anche da un punto di vista di salute, forse non è il caso di mandaggiarsi una torta a settimana. Quindi siamo arrivati alla terza e dovremo fare la torta alla banana. È il cake alla banana. Qua abbiamo gli ingredienti, il burro che adesso andiamo a mettere sul fuoco, le banane vanno tagliate a rondelle, due uova, le noci vanno un po' tritate grossonalmente, bicarbonato, lo zucchero che è un po' più denso del solito, zucchero di canna, farina. Adesso io taglio le banane a rondelle mentre una deve rimanere intera. Si scioglie questo, si tritano le noci e poi iniziamo il processo. Uova. Burro. Poi ci vuole lo zucchero denso, che non ho ancora abito come si chiama. Mosco d'oro. Poi serve la banana a rondelle. Noci. Poi un cucchiaino raso di bicarbonato. Abbiamo frullato, abbiamo cambiato contenitore perché quello era decisamente impossibile, sparava roba per tutte le parti. Io ieri avevo pulito la cucina, adesso questo è il risultato. Adesso imburriamo la teglietta e ci andiamo a colare dentro quello e lo inforniamo. Eccolo qua. Ci si aggiunge le fettine di banana che io ho martorizzato, cioè l'ho uccisa questa banana. E poi ci va aggiunto lo zucchero, l'altro tipo di zucchero. 170 gradi, 1 ora e 10. Noi abbiamo aspettato circa l'ora esatta. Questo risultato è un po' carbonizzato sopra, nel senso, è bello cotto sopra, diciamo sì. Però non sembra male. Ora la domanda è, ripeteremo l'esperienza della scorsa volta in cui dentro era completamente crudo? Non ne abbiamo la più pallida idea. L'abbiamo estratto dalla teglietta e questo è il risultato. Questa volta è cotto. Non resta che assaggiarlo. È stranissimo, sembra fatto con la farina integrale. Non lo so se mi piace. Mi piace il fatto che si sentano sgranocciare sotto i denti questi pezzettini di noci. Buono, mi piace molto. Il sapore sembra un pane integrale, dolce ovviamente, ma non lo è perché noi abbiamo usato la farina normale. La consistenza è una specie di plum cake, forse un po' più sodo, che credo sia corretta. Devo dire che però di sapore, nonostante forse sia quello che è un po' sbruciacchiato, ma forse è venuto meglio, credo sia quello fra i tre che mi piace di meno. Oggi siamo qui per fare l'ultima torta fra quelle tirate a sorte. Vi dico subito che ne abbiamo tirate a sorte altre già, quindi in futuro, quando ci saremo ripresi, faremo altri video di questo tipo. La torta che oggi era prevista, quindi l'ultima tirata a sorte nella prima tranche di torte, si chiama torta all'arancia e alle nocciole. Questi sono gli ingredienti, quindi zucchero a velo, uova, un'arancia, cioccolato e nocciole. Ora abbiamo diviso rossi da bianchi e spolverizzato, insomma ridotto in polvere, le nocciole e il cioccolato. Abbiamo spremuto un'arancia e grattugiato un po' della scorza, non so se è sufficiente ma ce la facciamo andare bene così. Abbiamo messo gli tuorli insieme allo zucchero a velo, ora non resta che montare. Ok, andiamo ad aggiungere le nocciole. E i bianchi. Noi ci stiamo preparando psicologicamente al quarto Epic Fail, nel senso che questa cosa sembra un po' troppo liquida per essere convincente. però è due ore che stiamo sbattendo questo impasto, quindi proviamo a metterla nella teglia e poi in forno. Vediamo che succede. La cottura sono 50 minuti, 55, quindi insomma vediamo se ce la faccio. Questo è il risultato e mi sa che l'abbiamo cotta stavolta un po' troppo per colpa mia che ho perso tempo in altre cose. Però sembra cotta. Questa è la nostra torta brutta che i gino massari chissà cosa mi direbbe. Andiamo a assaggiarla. Ora farò un disastro. Allora, in realtà l'abbiamo già mangiata ieri sera. È abbastanza morbidina, almeno ieri sera lo era. Il sapore è buono, nel senso che ha tipo uno strato sopra, è fatto dallo strato della roba meno pesante. Quella più pesante è andata a fondo, quindi lo strato sotto è praticamente cioccolato. Credo che però un po' fosse quello che doveva succedere dall'immagine che c'è sul libro. Il sapore è buono. Abbiamo finito le quattro torte che c'eravamo decisi di provare. Direi che è stata una challenge disastrosa, nel senso che queste torte secondo me non è venuta manco una, come sarebbe dovuta venire per un verso o per un altro. Siamo veramente negati a fare le torte, ma chi la dura la vince, quindi ci riproveremo con altre torte in futuro. Per ora il margine di miglioramento è molto alto. Con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao! 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 Ciao!